ciao a tutti amici di mattoscacco bentrovati quest'oggi vi mostro una partita una partita bella ovviamente altrimenti non ve la mostrerei dove il bianco maestro internazionale con 2330 punti dagli stati uniti affronta un candidato maestro quindi giocatore con 2150 punti stiamo parlando del maestro internazionale pascial contro il candidato maestro grant vediamo un po come è andata cavallo f3 cavallo f6 impostazione della partita abbastanza solida da parte di entrambi giocatori perché queste mosse vogliono cercare e se il bianco non vuol far capire che tipo di impostazione voglia dare al suo avversario il nero anche lui cercando di fare quella mossa cavallo f6 potrebbe voler copiare il bianco vi ricordo che nel momento in cui il nero copia il bianco il bianco alla fine ne uscirà sempre meglio quindi c'è sempre quel momento qui siamo soltanto alla mossa numero 2 dove il nero deve cambiare strategia dopo c4 e 6 quindi d4 e qui vi dico prima sorpresa perché solitamente chi inizia la partita con cavallo f3 quasi sempre vuole impostare un gioco come l'apertura a reti g3 alfiere g2 a rocco corto gioco sulle case bianche poco a poco prendo spazio e poi si continuerà mentre chi gioca alla seconda mossa c4 o alla prima mossa c4 quasi mai ripeto quasi mai vuole fare d4 invece no in questa partita è stata giocata d4 quindi d5 e siamo rientrati per trasposizione verso territori più battuti in questa posizione come se il bianco avesse giocato d4 alla prima mossa d5 per il nero e così via la partita prosegue a 6 siamo nel pieno di una di una variante una variante particolare che prende il nome di janovski e quindi siamo nel territorio nella e nell'ortodossa comunque d4 d5 se questo pedone andrà in c6 probabilmente ci saranno rientri nell'apertura slava catturo catturo e questo pedone 6 sicuramente ha un ruolo dobbiamo capire quale la prima impressione potrebbe essere potrebbe darsi che il pedone si trovino a 6 perché vuole impedire che un cavallo vada in b5 o forse in futuro vada all'alfiere e la risposta è sicuramente corretta l'altro ruolo di questo pedone è cercare di sostenere l'avanzata dei pedoni b e c ovviamente spingere in c corre dei rischi perché quando gli spingerò in c5 non mi cattura e dal punto di vista posizionale questo pedone d5 soffrirà un po la partita prosegue alfiere g5 piccolo tranello tattico non è da escludere che si voglia catturare in d5 anticipando il tutto con alfiere per cavallo a quel punto la donna o difende il cavallo quindi diciamo evita la doppiatura oppure cattura d5 alfiere 6 porta un difensore di questo pedone e dopo pedone 3 cavallo d7 alfiere d3 il bianco è pronto ad arroccare la partita prosegue come vedete entrambi sono a una mossa soltanto dall'arrocco vuol dire che l'apertura di entrambi i giocatori è andata bene e ancora non si è conclusa perché ricordate che le aperture si concludano si concludono siamo sicuri di entrare in meglio gioco dopo che entrambi hanno deciso di posizionare il proprio re al sicuro la partita è proseguita in questo modo prima di arroccare il bianco cerca di portare il suo cavallo in avanti una posizione un po estrosa perché si ordina rapidamente con l'alfiere e lungo le case chiare si potrebbe aggiungere la donna quindi una donna in c2 in d3 forse in h5 sono tutte mosse che potrebbero dare qualcosina g6 sulla scacchiera g6 è una mossa dal punto di vista posizionale terribile per il nero per quale motivo perché se osserviamo il nero si ritrova con tutti i pedoni sullo stesso colore del proprio alfiere se tutti i pedoni sono sullo stesso colore delle proprie alfiere significa e ripeto significa che quest'alfiere ovviamente non sta bene cavallo per e6 questa mossa non mi piace mi sorprende mi sorprende perché se quell'alfiere abbiamo detto che non sta bene perché ha le diagonali totalmente chiuse e cambiarlo vorrebbe dire dare un pezzo forte in questo caso il nostro forte cavallo proprio per quell'alfiere torre per e6 arrocco e secondo quanto dicevo qualche minuto fa abbiamo terminato l'apertura e siamo dunque in medio gioco entrambi i re si trovano al sicuro proviamo dunque a sviluppare un piano secondo la struttura pedonale la catena più lunga del nero forma una freccia che punta il lato di re se facciamo la stessa considerazione con il bianco ci accorgiamo che la freccia invece dal lato opposto quindi sul lato di donna questo significa che le due frecce corrispondono allo sviluppo che dovrebbe impostare il proprio giocatore il giocatore con la freccia rossa quindi il nero dovrebbe giocare sul lato di re mentre il bianco dovrebbe giocare sul lato di donna creando quello che probabilmente si chiamerà attacco di minoranza che cos'è un attacco di minoranza questi due pedoni che vanno in avanti allegramente conquistando spazio creando debolezze la partita continua cavallo h5 e adesso il bianco sorprende con questa mossa guardate che forte questa mossa attacco la torre se lui mi cattura catturo il cavallo la struttura pedonale del bianco adesso è superiore però per essere molto forte al fiere f5 il nero dove catturare il nero ovviamente non cattura si sposta e anche adesso un'altra mossa che mi sorprende dare con facilità questo alfiere che potrebbe poteva essere la differenza tra due giocatori un alfiere forte perché la maggior parte dei pedoni del nero del bianco si trovano su casa nera quindi un alfiere forte è cambiato per un cavallo in d7 quindi un cavallo che non stava svolgendo alcun ruolo la partita prosegue e se da una parte abbiamo detto che sul lato di donna deve giocare il bianco sul lato di re il nero sta impostando sta cercando di impostare il proprio gioco e quel cavallo in h5 che prima non serviva tantissimo adesso è pronto a sostenere il pedone che possa andare in f4 la partita prosegue cavallo 5 sulla scacchiera pedone g5 all'attacco torre c3 in caso di apertura di spazi questa torre è pronta anche in questo video non poteva mancare la famosissima manovra dell'ascensore quindi la torre pronta a dirigersi dalla terza traversa lungo la traversa direzione re avversario re nemico la partita prosegue cavallo g7 torre 1 cavallo f5 e adesso pedone per f4 e anche questa è una mossa che mi sorprende perché come vedete indeboliamo la struttura pedonale confidando forse sul fatto che da bianco abbiamo un forte attacco donna g4 scacco mossa importante dopo torre g7 donna per f4 il parziale dice il nero ha un pedone in meno e allora vorrà dire che il bianco ha giocato benissimo oppure il bianco potrebbe aver sottovalutato il fatto di ritrovarsi due torre due torri contro il proprio re sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale vienici a trovare sul mattoscacco.com scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo come possiamo ricordare questa posizione con due torri che si possono dire due torri in faccia al re del bianco questa posizione il re del bianco non è poi così sicuro arriva anche la donna adesso di pezzi pesanti contro l'arrocco ne abbiamo tre lungo le tre colonne torre h3 sembra una mossa spontanea per scacciare la donna avversaria se non fosse che l'inchiodatura del pedone g formerebbe questo tema tattico crea il tema tattico dell'inchiodatura donna per h3 ci diamo la mano la partita si conclude perché il bianco appena perso una torre quindi pedone a3 cavallo h4 tutti e tutto contro g2 adesso tempo importante contro la donna e questo permetterà la cattura in g2 quel pedone in f4 col senno di poi era un pedone avvelenato quindi torre per g2 il resist posta e a questo punto torre per h2 occhio pericolo un matto sulla prima traversa e lì nell'aria torre g3 pronti a difenderci dallo scacco però questa già sembra una posizione compromessa alterata dall'attività fortissima dei pezzi del nero e dopo h8 torre e3 errore questa questo tipo di posizione questo tipo di errore si verifica spesso quando un giocatore è sotto pressione quindi se voi state attaccando non non permettete al vostro avversario di rallentare quindi se voi state attaccando pressatelo perché prima o poi arriverà l'errore come in questo caso cavallo f5 sulla scacchiera minaccio cavallo per e3 cavallo per g3 che sono mosse che danno scacco alle quali colleghiamo torre h1 o forse in alcuni casi donna h3 la partita prosegue torre f3 ma in realtà in questa posizione il bianco maestro internazionale pascial si arrende perché cavallo per g3 è abbastanza forte è una mossa che da scacco e qui si accorge che in caso di cattura di il pedone perderà la donna e in caso di cattura di torre lo scacco matto arriverà con torre per o comunque se non arriva il matto e arriva qualcosa di simile la chiusura più forte sarebbe torre per scacco donna cattura interviene la donna dando scacco il re si sposta forse torre h1 se lo si sposta cattura la donna e quando lo difende chiaramente qui semplifico tutto perché poi alla fine il parziale dice catturo 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 donna in più il bianco è soltanto il cavallo rivediamo subito questa apertura perché è iniziata tutta questa partita è iniziata in modo molto lento per poi creare nella parte finale un gioco squilibrato quindi la partita è andata così d4 qui quindi è come se stessimo giocando una nimzo indiana forse catalana invece no arriva subito la spinta in d5 e come dicevo prima questo dettaglio del pedone in a6 si chiama variante jenovski e il nero vuole rallentare questo possibile attacco di minoranza che come in partita si crea dopo l'apertura il bianco ha giocato una manovra strana anche qui alfiere h4 che la mossa della partita come la possiamo spiegare diciamo che l'alfiere si posiziona in h4 per togliere l'alfiere più forte del nero infatti attraverso questo percorso il bianco sicuramente rimuove l'alfiere avversario forse qui potrebbe anche aspettare perché in realtà questo alfiere è inchiodato e dopo la cattura cavallo g5 questa la posizione è raggiunta prima sorpresa alfiere f5 mi puzza un po di errore posizionale perché l'idea del bianco è stata quella di dare l'alfiere in questa posizione l'attacco di minoranza sul lato di donna del bianco quindi la spinta del pedone a accompagnato dal pedone b in realtà non sembra così forte e chi è più veloce direi che sicuramente il nero così come in partita come vedete questo cavallo saltella ha attraversato realmente tutta la scacchiera è andata a destra sinistra tornato avanti indietro per riposizionarsi dopo qualche mossa in h4 che è la chiave dell'attacco del nero adesso i tre pezzi pesanti così come dicevo prima allegramente sono parecchio forti tutti contro l'arrocco donna d2 torre per g2 e a questo punto dopo rf1 torre per h2 con attacco decisivo in questa posizione il nero vince perché il maestro internazionale paschal si rende quindi vittoria per il candidato maestro grant spero che questa partita vi sia piaciuta ricca di idee e nonostante l'apertura sembrava fosse qualcosa di tranquillo come avete visto si è creato poi un gioco tattico ciao a tutti e al prossimo video qui su matoscaco ciao